Bene, eccoci tornati su Imperium. Allora, riprendiamo subito. Cos'è che dovevamo fare? È in atto una cospirazione per riuscire dal pretoro imperio. Devi agire in fretta per ottenere informazioni in villaggi vicini ed evitare la tragedia. Quindi dove cazzo devo andare? Ah, devo andare là. È l'ora di avanzare. Aha! So perché sei qui. Se vuoi fare qualche domanda, recati al villaggio di Ledovid. E l'ho già detto. E vai a Ledovid. Dove cazzo è Ledovid? Non c'è scritto un cazzo qua. Pronto? Sì, mio signore. Sai qualcosa su un traditore che si nasconde ad Advallum? Eh? No. Ah, amico mio. Permettimi di offrirti una birra e facciamo due chiacchiere. Sì. Quello che è lì in piedi vicino al Colosseo. Ok. Perché mi dice che hai vinto? Non sei riuscito ad evitare l'omicidio del gran pretore imperiale. Hai vinto! Cosa hai vinto? Ma cosa hai vinto? Il mio cavallo non conosce la fatica. Emi Plutone. Il mio cavallo non conosce la fatica. Cosa c'è il nome di Roma? Sei stato tradito, gran pretore. Avevano fatto dei piani per ucciderti. E quest'uomo era a capo della cospirazione. Un traditore? Non ci posso credere. Ma non finirà così. Ispezionerò immediatamente la zona. E dato che sei qui, accompagnami. Nessun esercito può fermare la nostra carica. Combattere fino alla morte. Aspetta, aspetta. Ora che il pretore imperiale è salvo, ha manifestato il desiderio di essere scortato da te mentre cerca di scoprire chi si nasconde dietro il tentato omicidio. Nessun esercito può fermare la nostra carica. Avanti! Ho capito? Fatemi combattere pure a me, non siate egoisti. Il mio cavallo non conosce la fatica. Mi batterò fino alla morte. Combattere fino alla morte. Mi batterò fino alla morte. Avanti! Pronto per la battaglia! Che Marte ci guidi! Pronto per la battaglia! Mi batterò fino alla morte. Mi batterò fino alla morte. Che Marte ci guidi! Pronto! Avanti! Pronto per la battaglia! Pronto per la battaglia! Pronto per la battaglia! Tranquillo, Fabio Agrippa. Ora che abbiamo ispezionato tutta la zona, penso che farò due chiacchiere con i tuoi superiori. Complimenti! Il pretore è molto soddisfatto e anch'io lo sono. Accetta questo come segno di gratitudine. Cazzo mi hai dato. Ah, grazie. Abbiamo saputo che un branco di lupi minaccia Ranechir. Non dovrebbero essere affari nostri, ma dato che la maggior parte dei nostri viveri provengono da lì, pensiamo che sarebbe conveniente dimostrare agli abitanti del villaggio che possono contare su di noi. Ultimamente ho sentito parlare molto bene di te, quindi ho deciso di porti al comando di un gruppo dei miei soldati. Non mi deludere. Minchia che schifo. Allora, hai visto il periodo, il periodolo che il villaggio di, il pericolo, sì, va bene, è sbagliato. Si è invaso da un branco di lupi, devi condurre le tue truppe fin lì e fare in modo che non c'è uno accada. È una missione difficile. Quindi dove cazzo devo andare? Dove cazzo? Ah, devo andare lì. Vi vedo, vi vedo, vi vedo, sono più furbo di voi. Mi batterò fino alla morte. Pronto per la battaglia. Il mio cavallo non conosce la fatica. Avanti. Pronto. Sì, ma voi che cazzo fate? Non aiutateli. Sono sorpreso, Fabio Agrippa. Li hai eliminati tutti praticamente da solo. Allarme. Ho appena saputo che i barbari stanno preparando un attacco immediato. Non avete molto tempo per prepararvi, quindi vi consiglio di rifugiarvi nel Forte. Per tutti gli dèi, il Forte non resisterà alla forza distruttiva di una catapulta. Allora impedirò che il nemico ne costruisca una. Sì, ma in questo modo avremo più possibilità di vittoria. Stanno arrivando i rinforzi dalla Dacia. Tutto quello che devi fare è accertarti che il nemico non costruisca una catapulta prima del loro arrivo. Ok. Quindi cos'è che devo fare? Anzi, è sotto attacco. Ti devi occupare delle catapulte e le devi distruggere per evitare che attacchino il Forte. Ho capito. Sì, sì, no, però... Tu vattene a fanculo. Sì, ma raga, fatemi non uccidere qualcuno anche a me. Nessun esempio può fermare la nostra catapulta. Devo recuperare un po' di vita. Devo recuperare un po' di vita. Ok, posso ricombattere. Oh, cazzo, quanti sono? No, 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 no! Curati, curati! Ma no, io volevo curarmi! Oh, oh, oh! Sì, ma cazzo! Ah, ok, grazie, raga. Pronto! Quello che hai fatto oggi è stato magnifico. Per questo motivo, su ordine di Cecilio Metello, governatore della Dacia, ti nomino Centurione di Roma. Recati direttamente ad Apollonia e presentati a Tiberio Livio. Ah, minchia, ma hanno promosso Pretoriano! Il mio coraggio è leggendario! Tu devi essere Fabio Agrippa. È un piacere fare la tua conoscenza. Segui il sentiero diretto a sud e arriverai subito ad Apollonia. Vaffanculo al cielo di merda che prima hai ucciso, fottiti! La vittoria sarà nostra! Dimmi, oh, Cesare! Sei arrivato finalmente, Centurione. Perfetto. Questi sono i tuoi uomini. Abbi cura di loro, perché non abbiamo altre unità. Sembra che un gran numero di contadini abbia intenzione di entrare a saccheggiare la città. Non possiamo permetterlo. Il governatore in persona ha ordinato di fermarli. Te ne dovrai occupare tu. Custodisci con i tuoi uomini tutti gli accessi alla città e accertati che entrino solo cittadini romani. Dovrai eliminare tutti gli estranei. Questi sono gli ordini che dovrai compiere. Ok. Ti è stato avvisato di gestire i tuoi soldi in modo da evitare che entrino ladri in città. Dovrai assicurarti di proteggere adeguavamente le quattro porte della città. Ok. Allora. Voi state qui. No. Voi magari... Voi state qui. Agricola sta di qua. E poi uno lo facciamo stare di qua. Lealtà, onore e gloria. Lottare e... No, 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 no. Sta arrivando qualcuno. Resisto a qualsiasi colpo. In marcia. Uccidilo. Uccidilo. In prima linea. È un onore. Resisto a qualsiasi colpo. Ma porco Dio. Minchia. Speedrunnano. Ma dove? Dove cazzo è sto negro di merda che sta entrando? Eccolo lì. Ti ho avvistato, pezzo di merda. Roma è un onore. Dimmi o cesare. Servire Roma è un... Pezzo di merda ti ho avvistato. Combattere in prima... Minchia. Questa... Devo avere gli occhi di falco in questa missione. Devo farne passare uno. I puntini viola non devono passare. Ti ho visto, pezzo di merda. No, dove? Dove? Ma dove? Dove? Ma dove? No, no, non ci credo. Ma dove era sto ladro di merda? No, non riesco a capire dove era. Ah, Dio, cane. Non li vedo. Si cazzo di puntini viola di merda. Ma non ce la fanno ad arrivare sti coglioni? Sempre pronto. Non ce la fanno. Siete lenti come la merda. Dai, dai. Ma tua madre in prima linea è un onore. Ma tua madre. Uh. In marcia. Dai, uccidete pure quello. Ma è porco Dio. Ma la volete uccidere, coglioni? Vi ho detto di ucciderla. Ma siete proprio stupidi come la merda. Uccidila. Uccidila, Dio porco. Senza che fate i giri come la merda. Ma la vuoi uccidere? Eh, sì, tua madre. No, 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 no. Uccidetelo. Uccidetelo. Ma perché? Dai, ci hai buggato il gioco. Ma vaffanculo. Madonna mia, quanto è buggato. Minchia, è buggatissima sta avventura. Anche i contadini blu ogni tanto me li conta. Non riesco a capire il perché. Oh. Dio, cane. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Porco Dio. Con mille salvataggi. Dio, cane. Bastardo. Contadini buggati blu che mi facevano fallire la missione. Dio, cane. Disertori di merda. Devo confessare che sono molto deluso. Nonostante la fiducia che avevo riposto in te, non sei riuscito a fermare quella gentaglia. Un ladro è riuscito a entrare nella città. Nonostante ciò, considerato il tuo coraggio, ti permetterò di porre rimedio al tuo errore. Il bandito si trova in qualche parte della città. Quindi i tuoi uomini dovranno fare in modo che non scappi. E mentre i tuoi uomini setaceranno la città, tu resterai qui, nel foro, a proteggermi. Acchiappa il ladro. E ho capito. Un ladro è andata... Devi immobilitare i tuoi uomini per prenderlo e eliminarlo. Ci sono consigliati di circondarlo, perché si dice che è un ottimo corridore. Quindi, questi li mando così. Eliminateli. Ma che cazzo sono diventati di livello 19? Che cazzo avete expato? Ma eliminatelo! Eliminatelo! Ma questo speedrun! Minchia, l'ho fatto rincoglionire. Ma che cazzo? Ma perché non l'avete ucc... Ah. Adesso qua glielo diamo, però, è un colpo. Sì, ti abbiamo messo in trappola! Dai, che gli manca un colpettino! Vinceremo la battaglia. Ma no, quello lì sta scappando! Dove va? Dai che rientra dentro al foro! Dai che rientra dentro al foro! Che sto coglione! Sono più un coglione! E daglielo sto colpo! Ma si è ricaricato la vita! Ma guarda che si ricarica pure la vita! Dai, ma porca madonna! Porco il dio di merda! Combattere in prima linea è un onore! Lottare in prima... Per Apollo! Per Apollo! Dai, che... Minchia, mancava un HP! Ma porco Dio! Siete proprio dei rincoglioniti! Dai! Ma porco Dio! Minchia, ma mangiate... Mangiate minestre, voi! Oh, dio cane! Porco Dio! Ora, dobbiamo occuparci di un'altra questione! Non è un segreto che Cecilio Metello sia un incompetente! È debole e stupido! Ma ha delle amicizie influenti a Roma! Per il bene di questa città, avremo bisogno di un nuovo capo! Sono d'accordo! Lo sapevo! Se mi aiuterai, avrai una ricompensa! Finora sono riuscito a far infiltrare i miei uomini al posto di cinque delle loro guardie, ma ce ne sono altre cinque situate in zone strategiche della città. Per portare a termine il mio piano, le dovrai eliminare in meno di dieci minuti. Non posso fidarmi di nessun altro, quindi dovrai pensarci da solo. Ricorda, le guardie del governatore indossano delle armature dorate. Ti dovrai avvicinare di soppiatto e quando sarai vicino a loro dovrai ucciderle con una pugnalata. Dovrai accertarti che non ti veda nessuno. Se qualcuno ti vedesse, dovrai eliminare anche questi. Aspetta! Allora, l'episodio finisce qui e ci vediamo al prossimo episodio.